Continua a tenere banco in questi giorni la questione legata ai fondi per il recupero dell'ex manicomio di Teramo, con un'accesa che era politica da tutti i fronti. Ultimo ad intervenire è stato il presidente della regione Marco Marsilio, che ha voluto spegnere le polemiche e chiarire come stanno realmente le cose. La regione ha fatto tutto quello che doveva. Abbiamo rifinanziato un'opera senza avere nessun dovere di farlo, perché l'opera non è stata rifinanziata per colpa della regione, ma per responsabilità del soggetto attuatore. Abbiamo riportato a Teramo più soldi di quanti erano stati rifinanziati. Per Marsilio non è vero che mancano i fondi. Il rifinanziamento da parte della regione dell'opera di riqualificazione dell'ex manicomio è completo e permetterà l'avvio della gara d'appalto. Noi abbiamo preso l'impegno a rifinanziare e complessivamente, nell'accordo di coesione attuale, abbiamo dato all'Ateneo 38 milioni, che è un occhio della testa e altri Atenei farebbero ponti d'oro per avere un decimo di quello che ha avuto l'Ateneo di Teramo. Quindi che il sindaco di Teramo strumentalizzi il fatto che siccome l'opera è molto ambiziosa e il restauro e il recupero del manicomio costerebbe addirittura 60 milioni, qualcuno stia in debito con la città, è un'assurdità. Ci faccia sapere lui magari quanti soldi vuole mettere sul recupero del manicomio, se crede anche lui e la sua amministrazione al recupero di questo spazio, oppure se deve fare tutto la regione, perché finora tutto ciò che si sta facendo e tutto ciò che si farà ed è tanto, perché con 20 milioni si ristrutturano almeno 4 edifici all'interno del complesso monumentale del manicomio di Sant'Antonio Abate e si faranno con priorità quelli di maggiore interesse dell'università. Per il Presidente Marsiglio l'Accordo per lo sviluppo e la coesione stipulato il 7 febbraio scorso con il Governo rappresenta lo strumento per assicurare tale realizzazione attraverso lo stanziamento di donne e risorse finanziarie. Abbiamo voluto confermare l'importanza e la strategicità di questi interventi. Abbiamo a cuore la sorte e il recupero del manicomio Sant'Antonio Abate. Spero che le istituzioni che hanno ricevuto questi denari importanti siano in grado di essere all'altezza di questa generosità e di questo importante contributo da parte della Regione.